E abbiamo iniziato basta basta non possiamo più dire niente non possiamo più nonno ha detto è aperto e questo potrebbe essere potrebbe Fate voi Arrivateci voi e noi ragazzi abbiamo appena iniziato un nuovo vanilla e ci vedrete in live dalle 15 alle 17 proprio oggi il 9 Oggi dalle 15 alle 17 saremo in live infatti vedete questo video prima e ogni giorno a parte il sabato e la domenica saremo in live dalle 15 alle 17 Siete pronti e guardate chi è ritornato qua nel nostro canale Ma salve ma salve Gabri è che bello che è Con che bella voce poi No sì esatto sempre una bellissima voce poi c'è nonno e poi c'è il nuovo Nick ciao Nick Ciao Bene iniziamo adesso iniziamo a prendere un po' di legno cosa dobbiamo fare noi nella vanilla beh dovremo fare un sacco di cose sarà una vanilla veramente magica Soprattutto perché la continueremo in live quindi nonno va bravo prendi un po' gli alberi un po' gli alberi Ti si inizia sin da subito Tu magari Gabri se hai voglia prendi un po' di Di cibo Di cibo bravo il cibo è la cosa più importante e tu Nick prendi della pietra perché abbiamo bisogno Di tantissima pietra Nonno come un piccone No Dubito Scusa Nick aspetta un attimo devi parlare con Dunis non con nonno Hai ragione Ho ragione sì sì certo che hai ragione Ma quando hai Esatto ho capito tutto Tieni Denis Oh grazie no non volevo una spada veramente volevo un piccone Però Ah te lo faccio subito Ma grazie mille ti ringrazio se sei così tanto gentile da farmi questo piccone Ti ringrazio e ti bacio Guardalo ecco lei Oh grazie mille ti do un bacio adesso Grazie Ci baciamo in modo appassionato sotto il ponte No 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 Sotto il lampione mentre piove eh ti piacerebbe? Non apprezzo no non mi piace Ma secondo me sarebbe una cosa molto interessante No no un po' per nulla ma scusami Oppure magari non lo so Nick Con la pecora però perché lui non Eh esatto Scipiamo Nick con la pecora Eh Nick è un po' vabbè Nick è un po' un animalista Sì 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 ma perché Nick e Nick piacciono un po' queste cose Bacciarsi con le pecora sto scherzando Eh sono fetish esatto esatto No Hai sbagliato in persona Eh vabbè Allora prendo le pecore Ah le pecore Io ne ho preso già un po' Bravo Gabri che abbiamo i letti Le pecorelle Io posso fare già due letti Con che voce per me Non lo so però mi sto leccando le labbra Perché queste pecore sono buone No che schifo No perché sono buone Poi magari da mangiare Ah pensavo ti stessi leccando con le pecore No che si Mi sono spaventato per un momento Ma sei scioccante completamente Come ti come Ah io No chi Mia zia Gelsomina Allora però possiamo fare Gabri No chi è che doveva prendere Eh Nick hai preso la pietra Io ti prendo la legna per farmi un piccone Ma te la facevo io Non hai ancora fatto niente Non hai ancora fatto niente Nick Sto prendendo la legna Vai immediatamente a prendere la pietra ho detto Stupido Non devi prendere la legna Vado io vado io Denis Ok vai tu Sei il più efficiente Sei il più efficiente ma è possibile Ho preso un po' di legna L'ho già presa Ok bene Ma io veramente sono scioccato da Nick Ma Nick ma che cosa fai Ma Nick ma ti devo Ti devo schiaffeggiare No Nick Nick adesso ti faccio Ti faccio leccare il larboscello Di qualcuno Eh gli abbi anche Ma io veramente non so Ma Nick Oh Oh Vabbè Allora vediamo un attimo C'è una caverna qui vicino Oh creature schifose No lì sotto Lì sotto E sotto Dipende Qua vicino Ah hai ragione Sì c'è tipo il canyon giusto Sì 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 c'è il canyon Sì stai attento a non caderci No tu dici io volevo caderci invece Sarebbe stato molto bello caderci perché Wow iniziamo benissimo il mondo Ma sì ma davvero Cioè iniziamo talmente tanto bene Ah pensavo che avate sbagliato Ma tu stai urlando troppo No come è possibile che stai urlando troppo Ma prima eri giusto Non parlo basta No parla parla che andava bene No perché sto scavando Cosa è successo Era ferro Mannaggia a me che stupido Ma perché poi hanno cambiato tutto Allora datemi della pietra Nick dammi della pietra Porca puzzarda veramente Te l'ho io c'è un casino di pietra Molto bravo Ok va bene così Intanto mi faccio un piccone così almeno posso prendere il bellissimo No no Dove sei caro? Sono qua sotto vieni qua tesoro Arrivo arrivo Bene bene allora Ecco guarda guarda Nick però sei un po' in mezzo Aspetta la lancio qui Ecco lei Ok bene grazie mille Dammi anche un po' di legno se ce l'hai ovviamente Eccolo qua ho tutto Aspetta però se lo lancio proprio dentro Arrivo Cosa intendi? Ecco qua Grazie mille Grazie mille Oh perfetto sei perfettamente efficiente a differenza di Lo so Ok perfetto Adesso prendo questo Nick non ti si capisce niente Eh Hanno cambiato il texture pack del ferro Ma guarda Eh di un po' di tutto hanno cambiato Esatto Hanno cambiato Hanno anche aggiunto il rame Cos'è che hanno aggiunto un sacco di cose ragazzi Il rame il rame molto bello il rame Marca puzzarda sono troppo contento ragazzi Sì esatto Non vedevamo l'ora che usciva sta nuova versione Eh infatti Ci hanno messo un po' Poi comunque non hanno aggiornato le caverne Io sono un po' offeso Però dai Uscirà con la 1.18 La caverna Le caverne e le montagne Dai Aspettiamo Natale Perché magari la semana No però veramente se quel periodo lì Eh esatto Sì no ma davvero Cioè nel senso non stiamo scherzando Davvero esce Mi spiace Oh ma davvero hanno cambiato Il raw iron No ma che figo Eh sì 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 è molto bello Questa cosa ma è stato Come se hai piccole con fortuna Ne avrei di più Come diamanti No vabbè Ma questo È arrivato Un suddito C'è un suddito Un suddito Ciao suddito Ciao suddito Caro amico Allora tu dovrai far parte Delle prigioni Dovrai sgobbare Dovrai pulire Le cacche Ma no 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 Ma no povero Dovrai pulire State zitti unati Dovrai pulire le cacche Di nonno Ha scritto Pensa che bello Ecco esatto Sì sì Va bene No dai sto scherzando Sarà un server molto Meritocratico Mi auguro Allora No sta arrivando la notte Ah ragazzi Non c'abbiamo un aiuto Posso fare due letti Sì Comunque Nick Ti sei confuso Con qualche altro Con qualche altro Streamer Perché ha detto Non so dove ti pensi di essere Ma noi qua siamo Originalmente originali Non siamo Non siamo Così tanto puzzoni Come alcuni Che copiano altri Mi dissocio Da ciò che ho appena detto Allora Io voglio Dovrai un po' di legno Sì certo Non ho il legno Se volete potete dormire Grazie mille Sei il nostro lettagliolo Veloci a letto Chi può Esce chi non può Perché se no Non vediamo niente Assolutamente niente Via Ciao tutti quanti Dormiamo Bene molto Entrate 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 Eccomi Ok bene Vieni il legno Che ti serviva Ok grazie mille Vedo Ma Nick Cos'è che io ti ho detto Prima Cioè a me sembra Di parlare con dei deficienti A volte Nick Quante volte Ti devo ripetere Che tu devi parlare Con me Nel video E non con altri Chiaro Sì Ok cosa ti Ripetimi Cos'è che devi fare Tu Nick Nel video Parlare con te E non con gli altri Con me Dunis E non con altri Solo con me Se hai bisogno di qualcosa Lo dice a me Poi dopo io lo dico Se no non si capisce niente Se parlate fra di voi Poi nonno Tu stavi balbettando Io ti ho sentito prima Ma ti sembra No Parazza di rincoglio Ma sto urlando Come un dannato No no Ho detto che Hai parlato strano Tipo hai fatto Non so cosa hai detto Che schifo che faccio Veramente Ma infatti Sei da solo Allora ma come facciamo Ad uscire da questo posto Scusatemi Eh facciamela scala Se vuoi Ok fai la scala O pro di avventuriero Delle palle Vai vai Fai la scala Non l'hai ancora Qua c'è una nuova cosa Qua c'è una nuova cosa Eh cos'è Cos'è sta roba I licheni sono I licheni E a cosa servono Ah figli Per illuminare Tipo però con il sick touch Si possono prendere Ah niente Ma allora che caspita Le vans Della roccia tipo Quindi praticamente Le vans della roccia Che quindi servono tipo Per illuminare Roba E' molto bello Questa versione Ha un sacco di nuovi aggiornamenti Bellissimi Che a me piacciono troppo E che vorrei leccare Questi aggiornamenti Sono talmente belli Che io vorrei leccare tutto Sì esatto Gli aggiornamenti Dico non pensi a male Per l'amor del cielo Caritatevole Cosa cosa ho detto Avete del ferro Per favore Avete bisogno del ferro Devo prenderlo Guardate qui Cosa ho trovato Ho trovato una cosa Magicissima No Cosa ho trovato Eh ho messo Aspetta una musica strana Ok ho trovato del rame Che voi direte Ma il rame Che cosa serve E qua sei in fondo Al canyon Praticamente Allora questo rame Raw copper Praticamente con questo rame Si possono fare tipo Dei blocchi Si possono fare altre cose Perché ridi nonno Eh perché c'è Nick Che si è schiantato Si è schiantato In un modo molto brutto Nick Ma Nick Ma che razza di rincoppistito Che sei Eh un bel po' Guarda qua Rubagli tutto Vai 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 No 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 Allora prima Scusa un attimo Ma Nick Ma tu hai rubato il copper Senza dirmi niente Ma Te lo stavo per dire È un disastro Mannaggia Tenic Ma te lo stavo portando Mannaggia Dovrai imparare Spero Spero prima o poi imparerai Allora Spero vede il copper Dov'è Il copper è questo Raw copper Ma quindi scusate Ma questo si mette qua dentro La fornace Se c'è una fornace Aspetta Nick Ah guarda So meno di te Allora prima In teoria Secondo me sì Perché Oh bravo Danny Sei gentilissimo A differenza di Di nonno Sì si mette la fornace Dai Anche io l'ho fatto Non è vero Tu non hai fatto niente Sei Hai un cervello strano Tu si Guarda Ho visto che è andato a venire Molto male purtroppo Però qua praticamente Mi dà i lingotti Giusto Esatto Il copper e lingotti Si possono fare i blocchi E le cose decorative E voi direte A cosa servono A costruire Giusto Sì a costruire dei blocchi Che poi con l'acqua E il rame Poi si ossida E diventa Cambia colore È fighissimo Beh bello Molto tutto quanto molto interessante Mi fa piacere Questa cosa mi ha ricordato Una musica molto vecchia E criccio Vabbè Lasciamo perdere Eh sì Molto bello Comunque Devo dire Molto Hanno fatto una bella cosa In questa versione Mi piace Mi piace Bene Io vi ricordo Ovviamente ragazzi Vi ricordo Per l'ennesima volta Venite sul nostro Twitch Oggi Oggi stesso Dalle 9 alle Che caspita Dalle 15 alle 17 Oggi su Twitch Il 9 No altrimenti Niente però Se volete venite E Mi raccomando Il link lo trovate in descrizione Oppure se mi ricordo Nel commento Nel commento su YouTube Altrimenti Se no vabbè In descrizione lo trovate sempre Oppure cercate Dunis RFP Così guardate Dunis RFP Su Twitch E mi trovate per forza Perché sono in live E quindi Sono modestamente Bellissimo Ci saremo Ci saremo Tu nonno ci sarai Sì ci sarò Oh bene Dalle 15 alle 17 Tu Nick ci sarai Certo Ok bene Tu Dani ci sarai Eh Ti dico io per lui Va bene Ovviamente Ha scritto Ovviamente Perfetto Sono contento così Bene ci saranno Mi sa che ci sarà anche Gabri Che adesso però È dovuto andare E quindi ragazzi Noi ci vedremo Al prossimo video E quindi Ciao a tutti